Amici internauti, è l'angolo della cultura, l'angolo della grammatica italiana e abbiamo un grande ospite, il dottor Sly. Salve dottore! Salve a tutti, salve a lei caro Mario Nastri, salve a tutte le persone che in questo momento mi stanno guardando. Io per stare bene faccio 100 riflessioni al giorno per avere un cervello muscoloso e stavo riflettendo su di una cosa caro Mario Nastri, cari amici che ci state guardando. Che la situazione della grammatica in Italia è drammatica. Lo dica! Lo dico, lo dico, ma non soltanto i ragazzi che scrivono sui social, ma anche grandi marchi, marchi importanti. Stavo riflettendo, guardate qua, leggete qua, birra Moretti, ma santi Dio, Moretti in italiano è sbagliato, morì, birra morì, perché il passato remoto del verbo intransitivo morire è morì. E quindi bisogna correggere questi piccoli errori, anche a livello geografico. La Nuova Zelanda, è da quando sono nato che si parla e si dice la Nuova Zelanda. Adesso non è più nuova, la Zelanda! Grazie dottor Sly, noi ci abbeveriamo sempre alla fonte della sua cultura. Venite ad abbevervi, vi aspetto. Chiaramente amici, mi raccomando, più libri e meno web. Grazie a tutti.